Guerra agli sporcaccioni, controlli più severi su deiezioni canine e raccolta differenziata. E' quanto ha annunciato il sindaco di Bari, Antonio De Caro, riferendo i risultati giudicati positivi della prima settimana del progetto Bari per Bene, avviato il giorno di San Valentino in via sperimentale nel quartiere Madonnella. De Caro ha riferito inoltre di aver chiesto all'avvocatura comunale il parere sulla pubblicazione di una colonna infame mediatica che permetta online di citare tutti i cittadini multati per aver sporcato la città. In questo modo, secondo il primo cittadino, mi piacerebbe che fossero i cittadini a condannare moralmente e socialmente gli incivili. Il sindaco ha ribadito che gli episodi di vandalismo o scarso senso del decoro individuati nei giorni scorsi non sono né una sfida al sindaco né al progetto Bari per Bene, ma sono una sfida alla città. Uno dei dati positivi dell'operazione Bari per Bene è stato l'aumento del 10% dell'incasso nei parcometri, mentre quello meno confortante riguarda la raccolta differenziata, che si attesta al Madonnella tra le più basse della città, con uno scarso impegno da parte degli operatori commerciali.